Ok, su R, poi lo vedremo negli esercizi, per calcolare il test F parziale si utilizza la funzione ANOVA, con questo comando qui che poi vedremo direttamente negli esercizi. Quindi questo quanto abbiamo appena detto, perciò un valore sufficientemente elevato porta a considerare migliore il modello completo, ovvero a considerare congiuntamente significative le P-Q variabili aggiuntive, proprio perché il nostro sistema di ipotesi va a testare proprio queste P-Q variabili aggiuntive, quindi Q più 1, Q più 2 fino a P. Ok, la statistica test che distribuzione ha? La statistica test FA ha sempre sotto H0 una distribuzione chiamata distribuzione di Fischer-Snedekor con P-Q, come abbiamo visto, e N-P-1, gradi di libertà. Ok, quindi questa è la distribuzione della nostra statistica test. In particolare la regione di rifiuto del test di livello α è F maggiore o uguale di F con P-Q e N-P-1, gradi di libertà, di livello α. Nello specifico chiamiamo F, P-Q, N-P-1 di ordine α, il quantile di ordine 1-α della suddetta distribuzione ottenibile in R con questa funzione, che in realtà non utilizzeremo negli esercizi, proprio perché il test F verrà generato poi con il comando ANOVA. Quindi rifiutiamo l'ipotesi nulla a livello α se F osservato, quindi il valore osservato della statistica test, è maggiore o uguale di questo quantile. Come sempre possiamo anche osservare il valore del p-value, che se è minore di α si procede a rifiutare l'ipotesi nulla. Bene, passiamo ora al test F globale, che ha l'obiettivo di stabilire la significatività di un intero modello. Quindi in questo caso non ci interessa più confrontare due modelli, ma il focus è su un modello e in particolare sulla sua significatività. Quindi quello che vogliamo fare è valutare se l'intero insieme di variabili esplicative presenti nel modello ha un effetto sulla variabile dipendente. Quindi considerato un modello di regressione lineare multipla con p variabili esplicative, quello che facciamo è sottoporre a verifica il seguente sistema di ipotesi, dove H0 è b1 uguale a b2 uguale a bp uguale a 0, mentre l'ipotesi alternativa ci dice che almeno un bji, quindi tra questi, è diverso da 0. Quindi se i coefficienti di tutte le nostre variabili indipendenti sono uguali a 0, significa che il modello non è globalmente o complessivamente significativo. Se invece almeno uno di questi è diverso da 0, vuol dire che il nostro modello complessivamente è significativo. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione, ciao! In realtà, come si vede dalle ipotesi, in particolare dall'ipotesi nulla, si può considerare questo problema come un caso particolare di quello precedente del test F, perché può essere visto come un confronto tra il modello in esame, che è sempre il nostro modello completo, e un modello nullo con 0 variabili indipendenti che assume il ruolo, in questo caso, di modello ridotto. Perché modello nullo? Perché se accettiamo H0 vuol dire che tutti i coefficienti delle variabili indipendenti sono uguali a 0, quindi è come se avessimo un modello pari a y uguale beta 0, ok? Mentre se vale H1 abbiamo il nostro modello in cui abbiamo beta 1 x1, quindi almeno uno di questi è diverso da 0, mentre se vale H1 abbiamo un modello in cui almeno uno di questi coefficienti è diverso da 0, quindi supponiamo di avere y uguale beta 0 più beta 1 x1, quindi beta 1 è diverso da 0 in questo esempio. Perciò, come puoi vedere, il modello completo ha beta 1 diverso da 0, il modello invece ristretto, quindi il modello nullo, ha tutti i coefficienti uguali a 0, quindi y è uguale soltanto a beta 0. Perciò, possiamo vedere questo caso come un confronto tra il nostro modello completo, appunto, e il modello con 0 variabili indipendenti, che è quello che abbiamo quando vale H0. Quindi andiamo a definire il nostro test F globale proprio sulla base di questo confronto. In particolare abbiamo il modello in esame con P variabili indipendenti, con una sua devianza residua e con N-P-1 gradi di libertà. Abbiamo poi il nostro modello nullo, con 0 variabili indipendenti. Come abbiamo detto, modello nullo quando accettiamo H0. La devianza residua, attenzione, di questo modello nullo è uguale alla devianza totale. Perché? Perché non avendo variabili esplicative, la devianza residua coincide con quella totale. Quindi senza variabili indipendenti, dev residua è uguale a dev totale. Ok? In questo caso i gradi di libertà, quindi essendo Q uguale a 0, sono uguali a N-1. Quindi andiamo a definire la statistica test per questo problema, che è uguale alla devianza totale meno la devianza residua fratto la devianza residua per i gradi di libertà, quindi N-P-1 fratto P. Sappiamo poi che la devianza totale meno la devianza residua corrisponde, come abbiamo visto, alla devianza spiegata. Quindi possiamo dire direttamente devianza spiegata fratto devianza residua per i gradi di libertà. Anche qui, sotto l'ipotesi nulla, la statistica test a distribuzione F di Fischer-Snedecor con P e N-P-1 gradi di libertà. Anche per il test F globale possiamo definire la nostra regione di rifiuto, possiamo stabilire come rifiutare l'ipotesi nulla, se F osservato è maggiore o uguale di F P N-P-1 alfa, che è il nostro quantile, oppure confrontando il P value con alfa. Quindi rifiutiamo l'ipotesi nulla se il P value è minore di alfa, quindi le stesse regole che già conosciamo. Prima di concludere, vediamo la previsione puntuale e gli intervalli di previsione per il modello di regressione lineare multipla. In particolare, possiamo ottenere la previsione puntuale, che è il nostro valore x0 hat, che è data dalle stime dei coefficienti della nostra regressione lineare multipla, quindi i nostri coefficienti B0, B1, fino a BP, e dà dei valori specifici che possono assumere le nostre x. Quindi queste sono le stime dei nostri coefficienti, che possiamo vedere direttamente nell'output R, mentre questi sono dei valori che vengono assegnati alle variabili. Poi vedremo negli esercizi cosa si intende, ma è molto semplice perché dobbiamo andare a sostituire β0, β1, eccetera, con le stime e le x con i valori che ci fornisce l'esercizio. Ok. Anche nella regressione lineare multipla, come abbiamo visto con la regressione lineare semplice, possiamo poi calcolare gli intervalli di previsione. Ok. Quindi li possiamo calcolare in modo analogo a quanto visto con la regressione lineare multipla, sia sulla media di y, sia sulla singola unità. Ok. Di questi intervalli, però, non forniamo l'espressione esplicita perché è piuttosto complessa. Infatti, gli esercizi prevedono il calcolo di questi intervalli direttamente con R. Quindi utilizzeremo sempre la funzione R che già conosciamo, che è la funzione predict. Ottimo! Questa parte è conclusa. Ti aspetto nella prossima parte dove vedremo insieme degli esercizi. A tra poco! Bene, questa è solamente la prima parte del corso che abbiamo creato. Abbiamo deciso di pubblicarla per comunque darti del valore gratuito, darti delle informazioni che ti possano servire. Se vuoi il corso completo, ti ho lasciato sotto il link, basta cliccare, andrai nella nostra piattaforma e-learning e lì troverai il videocorso completo. Ciao! Ciao!